Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo due ricette per salati persilani da De Onesta Vluptate et Valletutine del humanista Platina, che vivono nel XV secolo, e Costanzo Felici su salati, datendo al XVI secolo. Iniziamo con gli ingredienti. Necessitiamo persilana, vinagre di vino bianco, olio di oliva, cucinaia, olio, basilico, pepe nero e cinnamone. Negli ultimi giorni abbiamo trovato una grande quantità di persilana in alcuni strumenti nel paese, quindi abbiamo deciso di preparare un paio di salati storici. Ci sono alcune ricette per persilana nei libri storici. Inoltre, è stato già usato dagli antichi romani. Pliny diceva che era sfruttato per mangiare e preparare medici, mentre Columella scrive che durante il periodo della sfruttura, il persilana fu scoperto, sfruttato un po' e preservato con salto. Il persilana appena in diversi libri dietetici di varie ricette medievali. Inoltre, troviamo alcune ricette proprio come quelle che stiamo preparando oggi. Uno degli ingredienti, normalmente sfruttati con persilana, è l'olio, usato in due le ricette e raccomandato anche nel XVII secolo, da Giacomo Castelvetro, l'autore di un altro libro su vegetali. Per preparare la prima salata, riprendiamo nel mortaio il pepe nero e il cinese. Allora, riprendiamo l'olio di alfa, manteniamo parte della sfruttura per la seconda persilana in salata, e significa ciò che c'è restato. Questa è la metoda raccomandata da Platina, un umanista che ha scritto un libro sulla dietetica, con particolare attenzione verso i vegetali, in cui è anche tradizionato in latino il libro di ricetta del maestro Martino. In italiano usiamo il termine insalata, che anche designate la carne salata o il pepe nei ricetta medievali. L'elemento principale, come Felici diceva, è sale salato. L'insalata prende il nome dal fatto che sia salato. Altri ingredienti essenziali sono il vinagre e l'olio di oliva, a volte con l'addizione di spezie, un mixaggio non così differente da quelli usati dagli romani e greci, come abbiamo visto nel passato. Felici ricorda questo signo, l'insalata ben salata, poco aceto e ben oliata, che significa salata ben salata con un piccolo vinagre e ben oliato. Poi cuociamo e cuociamo il pepe. l'autore consiglia di cuocere bene, ridurre le parti difficili. Sassioniamo la salata di prima salata con salto, vinagre, olio di oliva, olio di oliva, olio di oliva, olio di oliva e olio di oliva. Se non avete persino, inoltre, usate un altro vegetale. Queste ricette sono eccellente, anche con il lettuce, il valeriano o altri grini simili. questa salata si trova spazio e, allo stesso tempo, delicato, un po' dolce dolce con il cinnamone e impugnato con il pepe e l'olio di oliva. Per farlo meno intenso, potete sostituire l'olio con i suoi grini. Questa salata si trova perfettamente con la carne. Per la seconda salata, puliamo e scociamo l'alpha-cucumber e prepariamo una buona quantità di olive basilica. Per sapere più sui salati nel medioevo e la rinascenza, e leggere altri articoli sui alimenti storici alimenti storici e la traduzione delle scuole, guardate la nostra pagina Patreon o comprate il nostro libro Registron Coquine, un libro medievale, su Amazon. Puoi anche leggere la cucina antica romana. I due libri sono disponibili in inglese e italiano in både edizioni e-book e print. Per supportare il nostro lavoro, puoi comprare una birra o comprare il nostro mercato. Aggiungiamo la seconda salata di basilica con salto, vinaiglia e oliva. Questo piatto fu meraviglioso. In Italia non usiamo erbe aromatiche come parte fondamentale dei salati. Adesso aggiungiamo solo alcuni libri. In questo caso, invece, il basilico è migliorato dagli altri sapori. l'aroma di basilica, l'aroma di basilica, il sapore fresco del cucchiaio e la pungenza dell'olio. Lo imparavamo con pezzi e molluschi, ed è stato fantastico. Abbiamo provato questi salati come piatti, ma è interessante notare che nella cucina storica, come riportato non solo da Costanzo Felici, ma anche da Gallen, quasi un millennium e mezzo prima, i salati e i vegetali sono anche usati per accompagnare il pane, senza più alimenti, come un snack, a volte mangiato nella mattina. Se siete interessati a alimenti e i sapori antichi ascrivete al nostro canale e consider supporti nos on Patreon.